Ragazzi, persone come Savelio, è molto importante la relazione che si instaura con questa persona. Cioè Savelio, come altri, perché l'ho notato, perché non seguo altri ragazzi, non so se no, ho comunicato anche una mia vita che sta in questo caso. Loro, come erano mie, hanno una sensibilità maggiore, quindi probabilmente sentono, sentono, qui ci stai, come lui, ma è un altro, cioè ci stai tanto per te, oppure per te.